ultimo giorno di asilo dai Jacopo eh? è l'ultima volta che facciamo questa strada, mi è entrato un nuovo giurino in bocca che ti fa venire la tosse parla, parla alla teledamerdi cosa pensi di quest'ultimo viaggio verso l'asilo? penso che sarà bello come sarà secondo te il prossimo anno a scuola? bene spieghiamo